Educare al risparmio, investire sulle nuove generazioni e dare un segnale di ottimismo, sono queste le motivazioni che hanno spinto la BCC Fano a rinnovare l'appuntamento con Banca e Famiglia, una manifestazione ospitata nel parco della Villa del Balia Saltara, durante la quale sono stati consegnati oltre 100 bonus bebè, del valore di 250 euro, ai nuovi nati nel corso dell'ultimo anno figli dei soci e dei dipendenti dell'Istituto di Credito. La Banca di Credito Cooperativo guarda alla famiglia l'importanza della natalità perché in effetti il momento attuale è un momento difficile, i bambini ce ne sono sempre di meno e quindi se vengono a mancare i bambini è anche il futuro di tutto il territorio, del mondo, è un futuro difficile. La Banca è interessata che nel nostro territorio ci siano famiglie con bambini che credono un po' nell'educazione, quindi cose positive per la Banca. Nel corso delle 13 edizioni la Banca ha donato bonus bebè ad oltre 1500 nuovi nati per una cifra di poco superiore a 380 mila euro. Sono cifre importanti, è il benvenuto che la Banca dà ai nuovi figli dei soci, quindi che diventano a tutti gli effetti clienti della Banca perché attraverso l'apertura di un libretto di deposito a risparmio minori, un fondo pensione di investimento, quindi diventano clienti e poi li accompagneremo nel corso della loro vita con varie iniziative nel crescere nella cooperazione, le borse di studio per studenti meritevoli, quindi li accompagniamo lungo il percorso scolastico. Questo è un segnale importante. Le famiglie coinvolte in un picnic hanno potuto visitare gratuitamente il Museo della Scienza e il Planetario. Durante l'iniziativa è stato anche presentato il nuovo corso per neogenitori sul tema la salute del bambino da 0 a 5 anni, curato dai pediatri Gabriele Tonelli, Lisa Tonelli e Annalisa Pedini. Una bellissima festa grazie alla BCC perché basta guardarsi intorno e si capisce la bellezza della Banca vicina alle persone, vicina alle famiglie che crea anche questo bellissimo evento e soprattutto l'evento grande Arianna che ha sconvolto in positivo la nostra famiglia, quindi è bello anche essere dall'altra parte ogni tanto. Raffaele è socio dipendente della Banca. Sono socio dall'anno scorso e siamo qui a ritirare il bonus perché ecco c'è stata offerta questa opportunità dalla Banca e quindi siamo venuti qui con la famiglia. Prima uscita in giro a fare fuori Fano. E questa splendida creatura invece chi è? Ecco questo è Carlo, è appena nato praticamente, è nato il 22 agosto, non è neanche un mese. Di questi 250 euro per le famiglie è un simbolo anche un segno di ottimismo. Certamente, ci aiuta sempre a far crescere bene il nostro bambino. Anche tu sei socio? Sono socio, sì. Da quanto tempo? Quattro anni ormai, quindi. Ci vuoi presentare lui? Lui è Manuel. Il protagonista di questa giornata, in famiglia anche voi? Certamente. Mirko è il secondo bonus bebè che ricevete? Esatto, esatto, a distanza di sei anni per cui questo vuol dire che siamo soci da più di sei anni e nel corso degli anni ha dato quella continuità che magari tanti istituti di credito non hanno dato, anche in momenti un attimino particolari e quindi va premiata questa cosa. E quindi a maggior ragione è contenti perché la prima figlia ormai ripeto ha sei anni, la seconda è arrivata adesso. Come si chiama e quanto ha? Letizia ha quattro mesi e quindi una nuova correntista, lunga vita e risparmi speriamo bene. È una bellissima giornata, sempre una grande attenzione che ha la BCC un po' per il territorio, e soprattutto per le nuove generazioni. Chi sarà il futuro? Il futuro sarà Maddalena, Maddalena che ha 11 mesi e dai speriamo un bel futuro. Ve lo auguriamo. Maddalena 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 Maddalena